Un saluto amici da Guido Bagatta, benvenuti e bentornati da queste parti per l'ultima puntata della settimana. Parliamo di basket, parliamo di basket europeo con l'Armani che lascia a testa bassa l'Eurolega, la Champions della Palacanestro. Lo fa perdendo anche l'ultima partita della stagione sul neutro di Belgrado con il Maccabi di Tel Aviv che per ovvi motivi non gioca in casa le partite che avrebbe dovuto giocarsi a Tel Aviv. Milano perde con il Maccabi che non aveva praticamente nulla da dare, visto che è già qualificato per i play-in. Per quanto riguarda Milano c'era qualche ultima speranza da potersi giocare, ma non sarebbe stata sufficiente nemmeno la vittoria sul campo di Belgrado. Perché? Perché contemporaneamente l'Efe Spilsen, squadra turca, tra l'altro due volte campione di Eurolega nel recente passato, ha letteralmente strapazzato l'altra squadra di Belgrado, ovvero la Stella Rosa, anche lei demotivata, perché già eliminata da qualsiasi possibilità di proseguo della stagione. Quindi finisce così un'annata, direi, disgraziata per quanto riguarda Milano. Una Milano che ha perso l'occasione di poter arrivare più avanti in Eurolega all'inizio della stagione. Addirittura c'era qualcuno che pensava di poterla vincere se non di andare ai play-off, se non di andare alle Final Four, ma almeno ai play-in. None of the above, come dicono gli americani, nulla di tutto questo. Eliminata Milano, ma dove Milano ha perso questa Eurolega? Lo ha fatto con le deboli. Pensate che ha un record di tre vinte e sette perse con le cinque squadre che l'anno scorso sono state le peggiori dell'Eurolega. È un po' come nel calcio. Ricorderete un paio di anni fa, quando l'Inter perse lo scudetto con il Milan, lo perse con lo scudetto perdendo non con le sue pari ruolo di alta classifica, ma con le società, con i club di metà bassa classifica. Se volete ancora qualche numero per Milano, in questo campionato, con le squadre che non accedono a questi play-in e nemmeno ai play-off, Milano ha sei vinte e otto perse. Anche qui vuol dire che Milano contro le deboli è stata debole, contro le forti è stata forte, ma non è bastato. Finisce così la stagione europea di una squadra che almeno per l'Eurolega dovrà essere rifondata, soprattutto sotto canestro, per avere più muscoli, più spazio, più altezza, più atletismo. Chiudiamo questo intervento parlando sempre di basket, perché invece stasera Bologna, la Virtus, che è già dentro da un paio di settimane proprio ai play-in, si gioca con vittoria la possibilità di disputare questi play-in con un eventuale fattore casalingo. Staremo a vedere. La partita è importante per tutte e due le squadre che vogliono un piazzamento migliore in classifica finale per la stagione regolare, per poi giocarseli questi play-in con delle chance maggiori rispetto a una sconfitta nella partita di questa sera. Una Virtus che sembrava aver finito la benzina, sia in Italia ma anche in Europa, e che invece nel nostro campionato, nell'ultima giornata domenica a Venezia, ha dato un bel colpo di coda, stracciando in pratica i padroni di casa e riproponendosi quindi, a parte come unica soluzione italiana nelle coppe, ma anche come una squadra che sta recuperando, oltre che fiato, muscoli e fisico, anche gli infortunati che ha lasciato per strada in queste giornate. Da qui do pagate tutto, buon weekend, noi ci vediamo sempre a queste parti, lunedì. Grazie. Grazie.